Guglielmo Achille Cavellini una tra le grandi opere della serie dei cosiddetti Carboni. È un carbone omaggio a Dubuffet, uno tra i grandi miti di Cavellini. Un metro e dieci per novantasette centimetri, legni combusti, appunto, Carboni, in cui Cavellini ricostruisce, appena percepibile nei rilievi sul nero carbonizzato, un'opera del grande Jean Dubuffet. Il tutto installato su di una grande cassa in legno. L'opera è stata pubblicata più volte in occasione di mostre personali dedicate al lavoro di Cavellini. in occasione di una mostra interamente dedicata alle opere ciclo dei Carboni e poi pubblicazione davvero molto rappresentativa in occasione della grande mostra antologica dedicata a Guglielmo Achille Cavellini a New York alla Florence Lynch Gallery nel 2009. L'opera campeggia pubblicata a colori a pagina intera, pagina 45, del catalogo edito dall'Istituto Italiano di Cultura di New York alla Florence Lynch Gallery di Chelsea, Manhattan, nel marzo del 2008. Nel ciclo dei Carboni, Guglielmo Achille Cavellini torna con una tecnica molto innovativa ad autostoricizzare il proprio lavoro, il lavoro degli artisti che ha ammirato ed ammira con una sorta di purificazione rappresentata appunto dal fuoco che brucia e di cui Cavellini recupera i residui carbonizzati. Nuova purificazione, punto zero, punto di partenza per una riflessione sul proprio essere artista nel confronto con gli altri grandi artisti che egli ha conosciuto e frequentato. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!